8.3 e 8.4 Il modello atomico a strati La configurazione elettronica degli elementi Il modello atomico a strati si basa sulle idee formulate da Bohr per l'atomo di idrogeno. In questo modello gli elettroni sono sistemati in livelli di energia crescenti e numerati da 1 a 7. Il numero massimo di elettroni che i livelli principali di energia possono contenere è uguale a 2n alla seconda. A loro volta i livelli di energia sono suddivisi in sottolivelli. I primi quattro sottolivelli sono indicati con le lettere S, P, D e F e hanno energia crescente. Quindi l'energia di S è minore di quella di P che è minore di quella di D che è minore di quella di F. Tutti gli elettroni di uno stesso sottolivello hanno uguale energia. Gli elettroni non iniziano a occupare un dato sottolivello se prima non sono stati riempiti i sottolivelli a più bassa energia. La rappresentazione completa dei sottolivelli occupati da tutti gli elettroni, in un atomo oppure in uno ione, è chiamata configurazione elettronica. Grazie a tutti. Grazie.